Un morto e un camionista di Vittoria in gravi condizioni, questo è il bilancio delle ultime ore in Sicilia sul versante del gelo che da giorni sta creando molte disagie da automobiliste e cittadini. La tragedia Petalia Soprana, un uomo di 78 anni, è morto forse collassato per il troppo freddo, mentre a causa sicuramente del ghiaccio sulla strada tra Acireale e Giarre si è verificato di un incidente che ha visto coinvolto un camionista di 78 anni di Vittoria ma residente a Comisu. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al trauma center del cannizzaro di Catania, avendo riportato diverse fratture nell'area cervicale. Il tir che guidava si è infatti ribaltato, sicuramente a causa del ghiaccio, presente in quel momento sull'A18 Messina-Catania. Il tratto in questione è rimasto chiuso a lungo per motivi di sicurezza. Proprio la polizia stradale continua in questo modo ad invitare gli automobilista alla massima prudenza, stante appunto le precarie condizioni del manto stradale che, oltre al ghiaccio, si presenta viscido e quindi particolarmente insidioso. Due persone sono inoltre rimaste ferite sull'Etna durante un'escursione, avendo riportato fratture sparse nel corpo. Infine la Col di Retti, che continua a lanciare l'ennesima allarme per i danni nel comparto agricolo, mentre molte scuole, specie nell'Ennese e nel Palermitano, oggi sono rimaste chiuse.